Siamo veramente tanti? Pare di sì, perché voi non vedete quelli che sono, che riempiono già la grande chiesa di Santa Rosa, ma credo che aumenteremo ancora più perché c'è bisogno di essere in qualche modo sostituiti nella staffetta, perché il percorso, se non nella lunghezza, nei tempi è abbastanza impegnativo. Ma ci saranno i generosi, gli eroi che non demorderanno non solo fino a Piazza Duomo, ma anche per partecipare all'Eucaristia che concluderà questo momento di grande preghiera di tutti noi. Recentemente ho affermato in una dichiarazione che a noi non basta garantire ospitalità ai molti che siete qui, provenienti da varie realtà, da varie regioni italiane. Non ci sentiamo e non vogliamo essere il semplice supporto tecnico che si sforza di garantire le condizioni ottimali per la buona riuscita dell'evento. Non ci serve e non cerchiamo una buona vetrina di promozione della bellezza e dell'ospitalità della gente salentina. La pace ci sta veramente a cuore, a cuore a noi cristiani, che siamo parte di quella immensa schiera di uomini di buona volontà, che, come noi e con noi, cercano, lavorano, soffrono, lottano per la pace. Una pace che è chiamata ad annullare ogni violenza, ogni guerra, ogni discriminazione, ogni tensione. Una pace che annunzia e promuove in ogni uomo la sua dignità, garantendogli libertà piena. E' bello che questa sera sono assenti, presenti, i tanti profeti di pace non più tra noi, come il nostro Don Tonino Bello, il Vescovo, autentico promotore e operatore di pace. Venti anni fa, più o meno in questi giorni, era l'inizio del mese di dicembre, Don Tonino, con la debolezza e la fragilità di un corpo già dilaniato dal male, attraversava in una marcia silenziosa la fredda, saccheggiata e distrutta Sarajevo, a causa della guerra nei Balcani. Sentiamolo questa sera accanto a noi, come modello sicuro e forte, in questo impegno per la pace, in questo nostro camminare sulle strade di una città, la nostra, che molto spesso sa vivere sonni tranquilli, ma sa aprirsi a segni e gesti di generosa accoglienza e di autentico amore. A tutti voi il mio augurio, nel nome del Signore Gesù, Principe della pace, mettiamoci in cammino. Buona marcia.